Musica Bene signore e signori bentornati su Call of Duty Mobile Questa sera in compagnia di Secret Girl e mia ci sono anche Letizia e Game Over Non mi ricordo per intero il tuo nick abbiamo pensato LMF Game Over Ossia Andrea E' un nostro nuovo membro della squadra Nonché un follower su YouTube voleva giocare con noi E oggi lo facciamo partecipare addirittura a un video Così ci pubblicizza meglio perché lo dice anche agli amici di guardarlo su YouTube Dove scendiamo? Ok Base di lancio no ok Mi sentite? Tu mi senti Secret Girl? Ok Questa sera ci sono problemi di audio Ultimamente l'audio va e viene al gioco almeno per quando faccio le registrazioni Quindi spesso mi sentirete chiedere se mi escono a capire o a sentire Ok io naturalmente mi sono sganciato e non me ne ero accorto Quindi sai chissà dove? No 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 sto vicino a voi Vi vedo 300 metri alla fine E' stato un errore mio per via del fatto che ho dovuto riconfigurare i tasti E ora ogni tanto clicco quello sbagliato Però ce la dovrei fare Ok Ok Bene Andiamo Dovevo trovare subito qualche arma ma Non è la mia preferita ma se no l'altro non sono disarmato Ok io non so neanche se le vostre voci si sentono a registrazione Sì Fatto Fatto Ah grazie Mi si era spiegata a questa arma non mi trovo Anzi se mi trovate nel M4 segnalatemelo Un nemico eh Ok morto Ok cambiamo arma perché la mia Ok Non mi piace Questa Ok 9 mm e 556 Beh che schifo No arma scarica arma scarica Va bene dai Ma vaffan male Ok ucciso ucciso Ok Poteva mai vincere lui C'è un problema con l'audio Si è girato No eh ma funziona così un po' da qualche giorno Che infatti va male l'audio Ma comunque Vediamo se riesco a trovare qualche altra cosa Io in effetti non sento nessuno Un giubbetto L'ho trovato Sì Telefetto Questa Artte Un specialist Il-0 L'ho trovato Uuh, c'è un nemico vicino a me C'è un nemico vicino a me Ecco ti Forse No, non ce l'ho fatta io Mi hanno aiutato Ok Oh, dov'è l'altro? Ah, è dentro Ok Ok Ah, va Io sto uscendo pazzo con questa nuova configurazione dei tasti Che BlueSax ha cambiato E non mi piace per nulla Non mi piace per nulla Prima era molto più semplice Uuh, nemico Vai Ok Grande Andrea Io stasera continuo i tasti e sto facendo un macello Ma siamo già nella zona sicura? Sì Ah, ok Va bene Aspetta, a questo punto mi conviene usare più l'altra tastiera Che c'ho i tasti completi Piuttosto che questa Facciamo un change a volo a volo Oh 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 Sì Ok dai dai forza Oh perché non mi trova niente di bello Chi è che ha segnalato il nemico Che tizio No ce l'ho io uno vicino Oh Muori dai dai muori Mamma mia Ok grazie Mi ha rifornito un po' così Uh c'è un altro nemico là Sei beccato secret Oh letizia piano Calma so che tu sei sempre malarmata Ho paura che pure le vostre voci Non stiano venendo nella registrazione Giustamente se non le sento io Penso che non vengano in registrazione È un peccato Ma già ci sono andato Mi ricorda che io No Oh 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 Chip terminal is almost ready Oh, questa sera non ho trovato niente, eh? Oh, questa è la sua. munizioni non ho messo malaccio dai dobbiamo spostare un pochettino forse no? come stiamo messi? siamo sul margine della zona sicura mi sa che però ci dobbiamo iniziare a spostare perché siamo al limite facciamoci spostiamo? si ci dobbiamo spostare oh c'è un nemico ok dai spostiamoci chi era? Batman? chi è uscito da quella finestra? Lily sei tu? secret sei tu? ah ma tu mi senti? no io non sento nessuno ti sento perché sei nell'altra stanza ah ok ora ti sento c'è che sparo c'era un nemico di fianco a me ok ok sono ops c'è un nemico qui avanti a me eh se non sbaglio eccolo ok ucciso perfetto ok dobbiamo continuare a spostarci andiamo ce ne andiamo per lassù se qualcuno servono un po' di cure ok E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Andiamo a fare questo potenziamento. Attenzione che siamo in pochi qua e quindi potrebbero arrivare subito i nemici. Ok. E' infatti, eccoli là, eh. Sono arrivati. C'è qualche nemico, mi sa, no? E rimane uno. E rimane uno, ragazzi. Anzi, ragazzi e ragazze. Oggi squadra due e due. Due maschi e due donne. Bene. Oh. Stai lì per di qua. Dai. Forza, arriva questa l'ultimo. Dove sei? Fatti vedere. Fatti vedere. Non ti nascondere. Dai, ti vogliamo solo dare un po' di piombo. No, no, no. Arma scarica. Ti vogliamo solo uccidere. Lì è l'ultimo allora. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Non ci sei lì, l'ultimo. Vediamo un po' le statistiche. Ok, ottimo. Direi veramente ottimo. Veramente, veramente ottimo. Avete visto, grazie alla bravura di Letizia03, Sick Girl e Game Over. Siamo riusciti. LMF e Game Over. Letizia03, Sick Girl e Peppe Hitek. Queste sono le loro uccisioni. Ragazzi, un'eccellente squadra, eccellente vittoria, eccellente video per YouTube. Grazie a tutti per averci seguito. Mi raccomando, lasciate il mi piace sotto al video, commentatelo se volete, condividete la sua bacheca dei vostri social, ditele a parenti, amici, conoscenti, pappagalli, cani e gatti e fatevi iscrivere al canale. Noi vi salutiamo in gruppo. Ciao a tutti per chi può parlare. Ciao a tutti. Ciao. Andrea saluta e Letizia scrive, ma vi assicuro che vi ha detto ciao e vi abbraccio a tutti quanti. Grazie per averci seguito e alla prossima. Alla prossima. Buona serata. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.